Ieri è stata presentata la stagione del profondo di Destiny, la seconda stagione del DLC di Lightfall con questa immagine qua, dove si vede Sloan, cioè il nostro NPC di Titano, che però sembra avere qualcosa di strano, se ci fate caso è mezza corrotta, si vede il braccio, parte della gamba, anche vicino alla spalla un qualcosa che non va, ci guarda attraverso questo grosso oblò dove ci sono tre guardiani vestiti con il set presumo della prossima stagione, che sembra decisamente a tema acquoso. Che vi dirò non mi dispiace, non sembrano abbastanza particolari, ma soprattutto dietro c'è un occhio gigante, probabilmente del mostro di Titano che sappiamo che nuota nell'oceano di Titano già dall'uscita di Destiny 2, si è sempre intravisto in giro, ma mai da così vicino, che abbia a che fare con il nuovo dungeon in arrivo? Può darsi, non lo so, comunque ditemelo voi nei commenti qui sotto.